Quando è troppo è troppo, sembra aver pensato la bella Mara Venier nell'occasione del compleanno del marito Nicola Carraro. I festeggiamenti sono stati anche, social, attraverso il profilo Instagram ma, come spesso accade, i social fanno il bello e il cattivo tempo e a volte non puoi fare a meno di rispondere ad eventuali critiche o paroline fuori luogo. A quanto pare è quello che è successo a Mara Venier che, appunto, in occasione del compleanno di Nicola una serie di foto di festeggiamenti condivise su Instagram è ormai passata la mezza e come tutti gli anni è arrivato l'1 febbraio, mio compleanno. Ormai gli anni sono tanti, mi mancano moltissimo i miei genitori ma sono felice perché ho una moglie fantastica due figlie che mi vogliono un mondo di bene, due nipoti meravigliosi, e i rizzoli se tanti amici in tutto il mondo. Nicola che vuoi di più dalla vita? All'appello sembrava però mancare il figlio, Gerò, compagno dell'avventura, e qualche malpensante lo ha voluto far notare scrivendolo nei commenti delle foto, hai anche un figlio. Non fare in modo che per colpa di moglie e nuora ti dimentichi di lui. Il commento ha mandato su tutte le furie la conduttrice che ha. Risposto con un secco, fatica, tuoi, str o, dal commento di Mara poi silenzio assoluto e diremo noi anche giustamente, la risposta è stata eloquente.